Adesso invece stiamo andando all'olandese volante Vai 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 C'è anche sull'olandese volante degli occhialetti perché ovviamente c'è dentro un telefono che tu lo metti e ci stanno i pedati mentre vai sulla giossa però io non ci posso andare perché sono ancora troppo bassa l'altro anno può essere pure che ci vado Adesso andiamo Ok C'era una fila lunghissima anche sui giochi acquatici però invece oggi no oggi perché forse non è un giorno di festa ci vediamo tra un po' sul gioco è un po' sul gioco mi metto sempre all'ultimo posto perché no non abbiamo capito papà mi metto sempre all'ultimo posto perché è più bello quindi aspettiamo qualche secondo e poi si parte a tra poco è quasi ora siamo la salita la salita Ciao 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 Io ci sarò andata mille volte qua Qua ci sono questi ragazzi Ah questa è proprio bella questa Dove siamo noi qua Guardate la torre Ciao Dove siamo noi qua? A Arriccola Che cazzo Ciao 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 Siamo arrivati? Sì siamo arrivati Uh Sì 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 Grazie.